Buonasera, tra poco il film di Tonino Valeri su un tema di grande attualità, Due Madri, con Barbara De Rossi e Sonia Petrovna Gianni Garco. Sottotitoli per i non udenti alla pagina 777 di Televideo. Trasmettiamo la domenica sportiva a cura di Tito Stagno. Vi auguro buon proseguimento di serata e vi ricordo che a mezzanotte e 35 trasmetteremo una sintesi del torneo internazionale di tennis di Monte Carlo.